Un veneziano al volante, oggi missione segretissima, missione Solaris, direttamente dal Lido di Venezia voglio penetrare al deposito della CTV e vedere questi fantomatici solari sul vino elettrici, ci sono o non ci sono, c'è gente che non dorme la notte qua, ho visto alcune foto qua a girare Instagram, ma secondo me sono dei fake, sono notizie false, voglio vederli io e toccarle con mano, state con me, state con me. Un veneziano al volante è arrivato, come ho promesso sono proprio fuori del deposito della CTV, però qui ragazzi è pieno di proprietà privata, telecamere di sorveglianza, diritto di accesso, io non so se me la sento di entrare, non saprei, non saprei, allora l'unica cosa che io posso fare è girarvi questa telecamera e cerchiamo di capire, di vedere se c'è qualcosa dentro il deposito, dai, 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 non si capisce bene, no, attenzione, attenzione, sta uscendo qualcosa, sta uscendo qualcosa, no, eh sì è lui quel muso tutto bianco, no, ma è lui, è il solare, c'è il solare subito elettrico, no ragazzi, incredibile, è lui, lo vedo per la prima volta qua che si è sentinato un mila di notte qua, mmm, missione completata per un veneziano al volante, guarda cosa che ho portato, pazzesco, pazzesco è lui, è lui. A presto. A presto.